I carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo Nucleocites di staccamento di Trapani, unitamente a personale veterinario dell'ASPE di Trapani e del WWF, hanno eseguito un accertamento presso un'azienda zootecnica, denunciando il proprietario e sequestrando diverse specie di animali irregolarmente detenute o prive di documentazione regolare. A seguito dell'accesso, i carabinieri del Nucleocites hanno infatti accertato che l'uomo deteneva, oltre a numerosi capi in regola, con tutte le autorizzazioni di rito, altri 19 esemplari da ritenersi a vario titolo irregolari. Precisamente venivano rinvenuti all'interno della struttura 8 cingreali, 4 daini, 2 mufloni, 2 istrici e 2 canguri, appartenenti alle specie wallaby delle briglie, privi di documentazione utile a rilevarne origine e provenienza, e che ai sensi della normativa italiana sono da ritenersi specie potenzialmente pericolose, poiché possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. Pertanto, per la detenzione di tali esemplari, purché non si tratti di allevamento regolarmente autorizzato dalla Regione, è necessaria una speciale autorizzazione prefettizia, volta a disciplinare le modalità di detenzione e il numero massimo di esemplari consentiti. Inoltre è stato rinvenuto un esemplare di pappagallo cenerino e un esemplare di rossella orientale, un'altra specie di pappagallo inserito anch'esso tra le specie in via di estinzione, per la cui detenzione è necessaria la documentazione CITES che ne attesti la nascita per riproduzione in cattività, escludendole quindi il prelievo in natura. Tutti gli esemplari rinvenuti all'interno della struttura si trovavano in ottime condizioni di salute, pertanto gli stessi sono stati affidati alla struttura in attesa di individuare luoghi idoni e regolarmente autorizzati alla detenzione di queste specie.